Ciao ragazzi, eccomi qua per caricare il video di Road to the One di FIFA 15, guardate qua, FIFA 15 Road to the One, ultima team edition, quella con 40 pacchetti, guardate, adesso metterla a fuoco, adesso un po', metto a fuoco in casa, comunque, niente, questa è la skin di gioco, il gioco in PC, poi ti aggrava una team book, guardate, questa qua, mi fate vedere un po' male, però, non è niente, però non mi piace tanto, però è la storia da carino, una mano, poi ho recuperato la FIFA 14, che se vedete che la skin di FIFA 14 ha ricevuto più da l'editario di FIFA 15, non ci ha messo, ma comunque, niente ragazzi, non sono i miei che hanno rotto il Day One di FIFA 15 ragazzi, perciò ci si vede, scusate, ci si vede su FIFA 15, per grandi sfide, non sono bravo, però me la cavo, dai, ok? Niente ragazzi, alla prossima, ci vediamo, grazie a tutti i miei iscritti, grazie ai miei iscritti, ci vediamo tutti, saluto tutti quanti e bello ragazzi, questo è un bel video solo per dirvi che è stato rotto il Day One, ok? ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.